Se trovo una spada laser il video finisce Ok bro Ok ragazzi stiamo andando in game per tentare la sfida Se trovo la spada laser il video finisce Vediamo un po' come ce la caviamo Se trovo una spada laser il video finisce Non so se far contare anche le box in questa sfida Vediamo un po' ragazzi Ci rendiamo a Slurpee Swamp Comunque vediamo come ce la caviamo Andiamo a Slurpee sul... Sulla sommità di questo coso che non saprei definire Non è un po' di scarico cosa sto dicendo Vabbè ragazzi lasciamo stare Pidiamoci dalla cesta e non perdiamo tempo Sì vai scendi scendi vai vai Non puoi devi scendere scendi Cosa non riesce a scendere Perché non riesce a scendere eh Cosa è successo L'inizio di un altro video è stato proprio uguale Vabbè lasciamo stare Mi serve un attimo Siamo calmi Posso provare Ragazzi posso provare Sì Ah ma sagrado bro Wow bro C'è veramente Stai provare il mio piano Sto tipo Aspetta Guarda tipo tutta la lobby Sarà full vita Ma questo è un altro discorso Ah qualcuno ha anche No no questo non è un aug Forse si Non ho sentito bene il rumore Attenzione Clean bro Clean Che arma avevi? Tu non avevi lito Calma bro Non ci è bisogno di dare Ok Io non so cosa sta succedendo Però Va bene così Anche se Non vorrei dire eh Però col millennium falcon Come delta plano Ok lo rendo come skin Che ho acquistato ragazzi Si Non acquistavo una skin Da decenni Ma l'ho fatto In realtà Se devo essere sincero Ci sarebbe non poco bene La spada laser Ecco Allora Vediamo un attimo Lo do via questo Che poi Ho lasciato Ragazzi la partita Sta andando troppo bene Partite del genere Poi le perdo Cioè So come funziona Quindi no Non mi arrabirò neanche Nel caso la perdessimo Ecco Allargarmi tutti No No Una spada laser